eccoci qua ragazzi eccoci qua eccoci qua come state spero tutto bene non potevano stare vicino al buon Victor non riesco a trovare l'inquadratura giusta però sono vicino al buon ok così siamo vicino al buon Victor mi sorseggio un buon caffè mi ha salutato non mi ha salutato ho l'ermanito sono GA7 e benvenuto in questo nuovo video in cui parliamo di calcio mercato parliamo di voce di mercato e parliamo di Victor Rosimane il calcio mercato in Italia ed in Inghilterra è ufficialmente chiuso ma il calcio mercato in Arabia Saudita ed in Turchia non ancora in Arabia Saudita dovrebbe finire domani mentre per quanto riguarda la Turchia c'è tempo fino al 13 settembre quindi un mercato prolungato che potrebbe facilitare questa operazione perché Victor Rosimane sarà diciamo sempre le cose con calma però dovrebbe essere un nuovo calciatore del Galatasaray nel frattempo sorseggiamoci un po' di caffè dovrebbe essere un nuovo giocatore del Galatasaray ed è un'operazione secondo me ai limiti della perfezione per il Napoli perché dico questo? Perché permette al Napoli di ricominciare da capo ripeto non è di certo la sicurezza del pagamento della clausola però per come avviene questa operazione in pressito secco e per come si era messa la situazione del calcio mercato in generale è una vittoria a tutti gli effetti per il Napoli ed è una vittoria per Aurelio De Laurenti che sapete bene ho criticato tante volte quando c'è da criticare lo si critica ma quando c'è da elogiare bisogna elogiarlo perché secondo me ha dimostrato innanzitutto sicuramente grazie all'ausilio di Antonio Conte grazie anche a Giovanni Manna però ha dimostrato di voler fare qualcosa per il Napoli prendendosi il rischio di impresa dunque spendendo senza aver ricevuto i soldi della cessione di Osimena arrivando alla fine del mercato senza aver ricevuto i soldi della cessione di Osimena dunque mandando un messaggio forte al calciatore, all'agente e agli agenti in generale che nessuno può prendere per le palle i club e nessuno può prendere per le palle il Napoli quindi una dimostrazione di forza importantissima ed a questo punto è arrivata anche un'offerta che secondo me è perfetta per il Napoli perfetta per il Napoli, perfetta per il Galatasaray si tratta di un prestito secco, andrà in prestito secco al Galatasaray e il Galatasaray pagherà tutto lo stipendio di Vittor Osimena quindi già solo questo ragazzi parliamo di tantissima roba perché all'ordo ti vai a risparmiare una cosa come 16-17 milioni di euro e non ti tieni un calciatore importantissimo a marcire in panchina, a marcire in tribuna ma ancora di più a migliorare quella che è l'operazione è un'altra cosa perché non solo tu lo mandi in prestito secco ma tu rinnoverai anche il contratto per un altro anno a Vittor Osimena dunque fino al 2027 questo significa che quando poi l'estate prossima proverai a cedere Vittor Osimena non cederai un calciatore in scadenza di contratto cioè proverai a cedere un calciatore che ha ancora due anni di contratto poi è vero che rimane comunque in rottura col club rimane comunque un calciatore che a Napoli non ci vuole rimanere e Napoli non lo vuole trattenere le cose sono finite in maniera estremamente brusca però tu hai fatto secondo me un'operazione di altissimo livello poi comunque mandi sicuramente il giocatore a giocare in un campionato minore perché al Galatasaray in Turchia cioè in Turchia il campionato turco è un campionato meno importante del campionato italiano come meno importante del campionato inglese, francese, spagnolo eccetera eccetera però lo mandi in una piazza che ha una cassa di risonanza gigantesca una delle più grandi tifoserie, delle più calde tifoserie che ci siano al mondo perché i turchi sono pazzi e quelli del Galatasaray sono veramente pazzi ma soprattutto tu lo mandi in vetrina perché comunque al Galatasaray che probabilmente vincerà il campionato turco e probabilmente Osimena farà molto bene tu ritorni a poter chiedere dei soldi importanti per il giocatore perché l'anno prossimo farà un'annata, si spera, migliore il Galatasaray farà sicuramente un'annata migliore del Napoli che ha fatto il decimo posto e si spera che Osimena faccia un'annata migliore di quella che ha fatto con Napoli che ha fatto il decimo posto quindi è un'operazione win-win-win-win-win-win-win-win proprio su tutto il fronte perché tu ti togli un ingaggio ti togli un ingaggio ma proprio di una pesantizza abnorme hai mandato il messaggio giusto mantieni un certo equilibrio nello spogliatoio perché poi non hai più il calciatore che paghi 10 milioni di euro non è più questa figura che comunque alleggia su Castelvolturno, sul Napoli che non gioca per il Napoli ti concedi la possibilità di ricominciare da capo l'estate prossima quando comunque avrai già un anno di lavoro con Conte un anno di lavoro con Giovanni Manna alcuni esuberi già li hai piazzati in entrata dovrai fare di meno e potrai concentrarti principalmente sulla cessione di Osimena e magari a gennaio puoi permetterti anche di andare a prendere un difensore centrale o un esterno addirittura entrambi perché tu ti metti nelle condizioni cioè ti sei messo nelle condizioni di poter lavorare al meglio l'estate successiva questa è programmazione questa è programmazione questa è una grande operazione che io spero vada per il verso giusto Fabrizio Romano dice che il Galatasaray ha già prenotato il volo per Victor Rosimena Di Marzio dice che non manca praticamente cioè mancano visite mediche e firma perché il calciatore ha detto di sì e ci mancherebbe altro perché mai dovrebbe dire di no comunque rimane a giocare in Europa comunque prende 10 milioni di euro non rimane in tribuna non va in Arabia Saudita e l'anno prossimo può se fa bene può trovarsi un altro club tra l'altro poi si ricongiunge anche con Dries Mertens che sono sicuro abbia messo la buona parola è un'operazione, ripeto, perfetta per tutti per il Galatasaray, per il Napoli e per il calciatore cioè non esiste un lato negativo cioè l'unico lato negativo è che non entra un euro ma tu ti concedi la possibilità di far entrare qualcosa di più importante l'anno prossimo per rimettere in vetrino Simen per rifar vedere il valore che ha il calciatore a parte che poi il Galatasaray rischia di fare un tridente d'attacco lì davanti magari con Dries dietro Icardi o Simen davanti probabilmente faranno un 3-5-2 con Simen e Icardi lì davanti bisogna vedere come farli convivere però mamma mia, mamma mia bella operazione bella operazione ragazzi veramente il Napoli qui molto bene il Napoli qui molto bene chissà che magari adesso non si decidono di prendere un esterno a parametro zero chi lo sa tutto può essere veramente tutto può essere ma così il Napoli si è dato economicamente parlando una seconda chance facendolo ha anche mandato un messaggio importante che il Napoli è forte il Napoli è solido e nessuno può permettersi di andare a fare un po' con gli sboroni in casa del Napoli in generale in casa dei club però il Napoli in particolare perché bene, veramente bene quando le cose vengono fatte bene bisogna dirlo comunque ragazzi questo è quanto ci aggiorneremo magari quando arriverà quando e se dovesse arrivare l'ufficialità questo è il mio pensiero nel caso in cui l'operazione dovesse andare in porto fatemi sapere quello che pensate voi con un commento qua sotto lasciando un bel mi piace iscrivetevi al canale in descrizione troverete facebook, instagram, twitter tutto quello che volete sarà lì giù troverete anche il G7 Shorts il mio canale pubblico teleclippo anticonici momenti divertenti del canale tiktok preferiti noi ci vediamo la prossima volta sempre e comunque tutta la vita Forza Napoli Forza Napoli Grazie a tutti Grazie a tutti